Non farti ingannare per 640 motivi neanche online. E' questo il titolo della campagna, promossa da Comune di Belluno, SERS e Comando Polizia Locale. Allora, noi abbiamo i nostri graditi ospiti, gli assessori Raffaele Adamiano, buongiorno assessore, benvenuto, e buongiorno anche all'assessore Marco Dal Ponte. Allora, rispettivamente Adamiano è assessore alla cultura, rapporti con le associazioni culturali e sicurezza. L'assessore Dal Ponte è invece alla sociale, rapporti con le associazioni e famiglie. Allora, tutti e due insieme proprio perché? Perché questa è una campagna che tocca chiaramente queste tematiche, ma partirei proprio dal titolo, Adamiano. Non farti ingannare il sottotitolo per 640 motivi neanche online. I 640 motivi cosa significano? Cosa rappresentano? Non voglio saperli tutti, ma cosa rappresenta questo numero? Ma intanto tengo a sottolineare il fatto che è un'iniziativa dall'alto valore civico e civile, tra l'altro realizzata in sinergia con il collega Dal Ponte e i servizi sociali, perché le tematiche della sicurezza e della socialità sono strettamente connesse. Dopodiché abbiamo avuto un apporto molto proficuo tanto dalla Polizia Locale di Belluno, che ringrazio naturalmente, quanto dalla Sersa. Ancora una volta dimostrazione di come più attori possono dare una risposta unitaria a tutela della collettività. Venendo alla giusta domanda, è un gioco semiserio, nel senso che 640 è la cifra che declina l'articolo del codice penale che disciplina il reato odioso di truffa. Quindi noi abbiamo voluto inculcare fin da subito un messaggio che focalizzasse l'attenzione sulla fattispecie penale, ma con un verbo non a caso scelto, quello dell'inganno, dell'ingannare, perché è una delle caratteristiche proprie di questi soggetti che non esito a definire dei delinquenti, specie se hanno a che fare con la popolazione più anziana del territorio che come tutti i media e i bellunesi hanno una propensione all'ascolto, all'altruismo, alla bontà e all'innocenza d'animo rispetto alla quale questo che è un vantaggio in sé, una virtù, può essere invece utilizzata in maniera malevola da parte dei truffatori. Quindi che cosa abbiamo fatto in concreto per entrare nel merito? Insieme al collega abbiamo organizzato una serie di iniziative, in particolar modo ma non solo, degli incontri frontali con la popolazione in varie frazioni della città, proprio per dialogare con le persone anziane o meno anziane, ben sapendo che la fattispecie della truffa online che differisce quanto a realizzazione concreta ma la impostazione giuridica è la stessa della truffa tradizionale sempre l'articolo 640 del codice penale, per dare a questi soggetti, ai nostri interlocutori, al pubblico che è sempre stato numeroso e cospicuo e attento delle informazioni, per dare loro, cioè degli strumenti conoscitivi sotto il profilo sociale, comportamentale, giuridico, penale e anche amministrativo nei confronti di questi che appunto io ribadisco essere degli autentici delinquenti perché poi vanno a intaccare uno dei beni più preziosi che è da un lato la buona fede e dall'altro quello attinente al patrimonio di questi soggetti. Poi un conto è magari una truffa di 100 euro ma se nei confronti di un pensionato che ha una pensione minima di 500 euro, 100 euro sono una cifra assai ragguardevole e allo stesso modo una cifra molto più consistente potrebbe impattare molto sull'economia di una persona o di una famiglia. Quindi la finalità è stata quella di tutelare informando in maniera consapevole e condividendo queste fasce cosiddette deboli e ripeto il riscontro per quello che posso aver percepito in tutte queste circostanze è stato estremamente positivo. Io ho cercato, stante la mia professione, anche di dare qualche informazione proprio sotto profilo normativo, come si enuclea il reato di truffa, quali sono i comportamenti base tipici a fronte di quali poter reagire e stabilendo un rapporto col mio interlocutore tale per cui il consiglio di massima fondamentale è quello di non avere alcuna remora, alcuna esitazione e di andare a denunciare alle forze dell'ordine che sono in questo caso delle nostre preziosissime alleate questi soggetti. Anche qualora non avessimo un'identificazione certa dell'autore o degli autori del reato però lo strumento più importante, direi fondamentale, sia a livello di individuo colto nella fattispecie, sia a livello di collettività, a quello appunto di rivolgersi alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardie di finanza, polizia locale e appunto di descrivere il fatto per permettere a chi di competenza di individuare gli autori del reato e se possibile poi punirli severamente. Segnalo un inciso che di recente è all'attenzione del Parlamento, un disegno e greggio di un parlamentare del mio partito che ha inteso inasprire le pene con un'efficacia dissuasiva. In altri termini una proposta è finalizzata a disporre il sequestro dei beni che sono stati utilizzati a livello elettronico, i computers, i portatili, i tablet, i cellulari per consumare le truffe. Questo dovrebbe avere un'efficacia dissuasiva e incidere maggiormente nei confronti dei rei. Certo, Assessore Dal Ponte, diceva l'Assessore Adamiano appunto questa online, questa modalità particolarmente diffusa. Ecco, lo scorso anno la campagna a tutela degli anziani e della popolazione fragile. Ecco, l'online coinvolge molto anche gli anziani che magari non ha minore di mistichezza, ci si trova sempre più a compiere delle operazioni in maniera telematica e specie magari chi non ha una conoscenza approfondita può incappare nelle truffe. E qui c'è anche il risvolto sociale, nel senso che un truffato si sente anche psicologicamente più fragile, quindi anche il vostro intervento e la collaborazione con Sersa, nonché gli incontri sul territorio, anche per un dialogo mi sembra, perché anche questo è l'aspetto sociale, far emergere la problematica. Spesse volte il sommerso, sono stato truffato ma me ne vergogno. Certo, la tematica della vergogna è un punto importantissimo della nostra campagna contro la truffa agli anziani. Gli anziani e non solo, tutte le persone che vivono a casa molte ore, che trascorrono molte ore nella propria abitazione, sono soggetti ad essere in qualche modo truffati con una percentuale maggiore, perché rimangono a casa. Cosa succede? A casa l'anno scorso abbiamo trattato la tematica della truffa diretta, quest'anno della truffa online, ma uno a casa ha anche il tempo di rimanere al computer, di fare delle prove, gli anziani non hanno proprio, non tutti hanno questa dimestichezza col mondo informatico e quindi intraprendono questi percorsi che non hanno un termine sempre così favorevole. E qui la nostra proposta era che a questi corsi, a questa formazione, perché abbiamo sì fatto l'informazione attraverso i media, la Telebelluno in quel caso che ha diffuso dei messaggi importanti, ma ad esempio attraverso la Domomiti Bus, quindi abbiamo fatto un'informazione iniziale e poi siamo andati nella formazione vera e propria, come diceva il mio collega Damiano, non nelle frazioni. E cosa succede? Qui sarebbe stato importante che arrivassero anche dei giovani, dei ragazzi, dei parenti, dei nipoti, degli anziani, perché ci fosse un connubio tra di loro al fine di creare un rapporto per il quale l'anziano che è meno consapevole della tecnologia potesse avvalersi anche del nipote. Comunque noi abbiamo lanciato questo messaggio importante e abbiamo poi, tornando al discorso che dicevamo della vergogna di sentirsi oppressi di fronte ad essere stati truffati, abbiamo anche creato un gruppo importante, uno della Sersa, quale meglio di Sersa con le sue professionalità, assistenti sociali, educatori, psicologi, che agiscono comunque con l'anziano abitualmente e quindi ne conoscono bene le dinamiche, sia a livello di residenzialità ma anche di domiciliarità e poi con sempre le stesse professionalità anche col comune. Perché? Perché volevamo dare un supporto a queste persone. Queste persone possono avvalersi di questi professionisti sia in ambito dei servizi sociali del comune che di Sersa e possono contattarli proprio per avere dei suggerimenti, per condividere un percorso. Al di là quindi del reato? Al di là del reato perché quando il reato è stato subito poi entrano in una serie di, diciamo prima, di vergogna ma anche non riescono a comunicare quello che è avvenuto ai propri cari. Quindi entrano in uno stato psicologico molto fragile. Allora sono già persone fragile per alcune situazioni, diventano ancora più fragili dal punto di vista psicologico e quindi il poter accedere liberamente, senza nessun vincolo, senza definizioni di protocolli particolari, poter accedere ed avere un conforto. Questo conforto poi può proseguire in un cammino vero e proprio e quindi arrivare proprio a un percorso che possa migliorare lo stato in essere del truffato. Certo, ci ha accennato quindi a Sersa dal punto di vista psicologico, ma se si è vittime di truffe online, a chi bisogna chiamare, a chi rivolgersi? Allora, noi abbiamo messo nelle brochure, quindi nel materiale informativo, abbiamo messo le forze dell'ordine, tutte, però abbiamo messo anche, dicevo, tutto il personale, i numeri di ricapito telefonico, di Sersa e dei servizi sociali, in modo che alternativamente si possano interagire tra di loro. Abbiamo fatto queste sei serate, ne abbiamo fatte per dirvi il vero cinque e una la faremo, l'ultima la faremo in Nevegalla, dove abbiamo piacere anche di incontrare la popolazione così anche un po' turistica, oltre che residente e ho detto prima sei perché, perché c'è stata una richiesta fuori comune, questa iniziativa è talmente piaciuta che la Casa di Riposo di Sedico ha organizzato un evento per i cittadini, non per i residenti della Casa di Riposo, ma per i cittadini, dove erano veramente in gran numero e noi abbiamo partecipato di buon grado pur essendo fuori dai confini del comune di Belluno, perché il nostro messaggio non ha confini, deve essere un messaggio rilasciato a 360 gradi per tutti gli anziani e quindi abbiamo partecipato di buon grado. e abbiamo anche visto che a di là della formazione, della presa diretta da parte di chi relaziona nei confronti dei cittadini, ma c'è stata anche sempre un'interlocuzione da parte dei cittadini con domande, con richieste e questo vuol dire che si sentono, si sentono e poi ognuno di loro ha portato avanti nei nostri confronti una serie di esempi di cose che gli sono state accadute realmente, quindi questo ci fa capire che noi abbiamo percorso una strada corretta e per noi sarebbe importante anche se il Ministero il prossimo anno lanciasse per il terzo anno consecutivo una campagna promozionale ai fini di consapevolezza di confronti delle truffe sarebbe per noi importante ripartecipare, altrimenti vedremo come continuare con questo percorso che ci sta dando adesso, dopo due anni, degli esiti favorevoli, ci sta confortando sul cammino che abbiamo intrapreso. Certo, quindi confortando sul cammino intrapreso, Assessore Adamiano, mi sembra anche il fatto di organizzare gli incontri non soltanto in centro città ma anche nei punti periferici. Noi abbiamo ritenuto che la città nel suo complesso andasse coinvolta e partendo dal centro storico poi abbiamo ritenuto di approfondire queste tematiche sempre con quelle finalità conoscitive e preventive in tutte le possibili frazioni di cui si compone il capoluogo. La risposta anche da parte mia penso di poter dire sia stata positiva perché oltre a quello che noi abbiamo detto al termine c'è stato un momento di confronto, di dialogo, di contraddittorio con tante domande molto pertinenti anche qui sotto il campo sociale ma anche sotto il campo comportamentale, sotto il campo giuridico e quindi io sono soddisfatto e orgoglioso che l'amministrazione comunale abbia messo in campo per il secondo anno consecutivo e come vuol dire il proverbio non c'è due senza tre, speriamo questa iniziativa perché fondamentalmente era ed è funzionale a far capire al cittadino che le istituzioni, tutte le istituzioni sono al suo fianco e lo fanno con spirito di servizio come è giusto e doveroso che sia su un tema così rilevante che dai dati che io possego in provincia di Belluno vede una leggera flessione, non so se sono immodesso nel dire che magari noi nel nostro piccolo grande abbiamo contribuito in qualche misura ma che a livello nazionale in realtà ha un aumento molto significativo. Ecco quindi che è importante che tutti gli organismi deputati a livello di amministrazione comunale che sono l'ente pubblico più vicino al cittadino ma anche le forze dell'ordine tutte indistintamente che hanno una capacità e una abnegazione totale contribuiscono nella riuscita di questa campagna informativa che serve al cittadino per essere più consapevole e quindi più sicuro. Ha in parte risposto alla domanda del Stato per farle sui dati, i dati sono importanti, i numeri auspichiamo logicamente che tali numeri possano concretizzarsi nel dettaglio secondo quello che ha detto lei, una tendenza a ribasso, ci auguriamo veramente ma direi questa campagna non è, mi sembra di aver capito le vostre parole, soltanto limitata a questo settore ma vuole essere proprio conoscitiva, di conoscenza e di colloquio anche con il comune di Belluno piuttosto che con i servizi sociali, quindi non è un percorso che terminerà qui ma continuerà anche per noi nel senso che vi seguiremo in questo e negli altri passi della campagna. Purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, è stato un grande piacere, Assessore Damiano, le ringraziamo, gli auguriamo un buon lavoro e buon lavoro anche all'Assessore Dal Ponte. A voi tutti grazie per la gentile attenzione, arrivederci. A voi tutti grazie per la gentile attenzione, arrivederci. Grazie.